autopilot è l'app di hangar che consente di effettuare una serie di operazioni con i droni oltre a tutte diciamo le modalità di volo classiche ce ne sono alcune davvero interessanti che consentono addirittura di mappare il territorio con il drone più piccolo della famiglia dji che lo spark spark che è stato nella versione che vedrete poi nel video volutamente anche alleggerito per rispondere alla normativa enac dei droni inoffensivi sotto i 300 grammi e che oggi stiamo testando con successo in quelle che sono le operazioni in campo per la fotogrammetria autopilot funziona attualmente solo per dispositivi ios quindi lo sto utilizzando su un ipad e non potendo per forza di cose dare uno sguardo a tutte le sue funzioni vado nello specifico su quella che mi interessa quindi il volo con waypoint una volta attivata l'app si presenta in questo modo all'interno di waypoint esistono una serie di possibilità anzitutto è possibile impostare la modalità nella quale si vuole utilizzare la modalità waypoint quindi se basic intermediate o advanced utilizzo advanced perché quella che mi consente di impostare rapidamente tutti i parametri che mi interessano ho due scelte che è missione di tipo libero o dedicata al mapping io lascio mapping e mi partono le prime condizioni anzitutto se viene persa la connessione cosa deve fare il drone quindi posso scegliere se deve stoppare la missione o continuarla per sicurezza lasciamo end mission condizione di partenza lascio nessuna nel momento in cui il mio drone ha completato la missione cosa deve fare deve rimanere in hovering su un punto quindi il mio quadricottero rimarrà fermo sul punto di fine della missione altrimenti potrei scegliere di farlo tornare a casa piuttosto che al termine della missione effettuare l'atterraggio io lascio over perché nel momento in cui il mio drone termina la missione lo riporto manualmente a casa così come manualmente lo porto in quota prima di far partire la missione cosa interessante poi quella che la camera perché qui mi dice che camera stai utilizzando è settato per una serie di droni vedete phantom 3 e phantom 4 eccetera mavic quello che volete è possibile addirittura andare su personalizza con custom io scelgo la camera dello spark così lui effettua dei preset bene è chiaro che ovviamente per le regole di fotogrammetria per quello che ci accengiamo a fare è utile non utilizzare delle alte velocità perché capite che è importante riuscire a catturare correttamente quello che sono le foto io comincio a impostare una velocità di tre o 4 chilometri orari insomma o posso spostarmi anche mediante questi 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 tastini più e meno che sono disponibili sia nella velocità sia nell'intervallo di cattura delle fotografie questi sono dei preset che poi vedremo possiamo sicuramente andare a modificare una volta che gestiremo la missione l'angolo di cattura viene settato in automatico con un tilt di 84 gradi è il massimo che può raggiungere la camera dello spark e adesso il percorso che voglio seguire qui ho la possibilità di seguire un percorso standard piuttosto che un cross hatch nel 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 percorso standard vedremo il percorso standard è quello che utilizzo normalmente per fare fotogrammetria di territorio se dovesse trovarmi di fronte a degli edifici quindi voglio che il drone non catturi solo diciamo il cielo di quello che sta vedendo diciamo la parte superiore di quello che sta vedendo con le foto naturali ma catturi anche le pareti laterali di questi edifici utilizzo il cross hatch per adesso guardiamo lo standard il ground sample reference è dato dall'altitudine del mio drone ora è chiaro che in base all'altitudine che io vado ad impostare ottengo un certo ground sampling distance che è il famoso gsd diciamo che mi posiziono sui 30 metri di quota e sinceramente credo che siano un attimino sfasati questi valori in quanto su 30 metri di quota io con uno spark mi terrei mi terrei un attimino più largo diciamo che andrei sul paio di centimetri di gsd con uno spark a 30 metri di quota però diciamo che sono di dei parametri tanto sta anche a quello che è il a quello che è l'esperienza del di chi effettua poi il volo inoltre è possibile andare a selezionare come potete vedere quelli che sono le sovrapposizioni sia frontali che laterali del mio percorso che andrò ad eseguire con il drone in questo caso ci è settato un 80 per cento di sovrapposizione lungo il percorso e un 70 per cento di sovrapposizione nelle strisciate laterali nelle fotografie che vengono effettuate dalle strisciate laterali dopodiché lasciando perdere per un attimino il checkpoint strategy andiamo a vedere esattamente come si prepara una missione ho la possibilità di cliccare qui in basso a sinistra sul bottoncino della missione e posso ovviamente io qui sto utilizzando semplicemente il touch quindi vado a diminuire la quello che come potete vedere lui prende la mia posizione adesso mi sto spostando perché il volo non sarà assolutamente effettuato lì ma sarà effettuato in un'altra in un'altra zona che adesso vado vado a cercare eccomi qua identifico la mia area pip perfetto ovviamente adesso sono distante dal dalla posizione ma è solo per far vedere come funziona bene io ho qui ho a disposizione della zona nella quale devo volare cosa faccio tengo premuto con il dito in un primo punto e lui posiziona questo primo questo primo boundary point se per cominciare a vedere che lui crea una missione devo metterne quanto meno tre quindi nel momento in cui io clicco sul secondo per esempio prendo quest'altro angolo non vedo ancora niente nel momento in cui io clicco sul terzo punto ecco che comincio a vedere in base a quello che ho settato prima che cosa come si comporterà il mio drone nel caso in cui ovviamente avessi bisogno di un altro un altro punto diciamo di controllo un altro punto che delimiti l'area all'interno della quale devo volare il drone non posso aggiungerlo tenendo premuto come prima ma semplicemente cliccando su uno di questi bottoni di questi di questi più che trovate nei tre lati quindi se clicco su questo della diagonale ecco il tasto più mi dice semplicemente guarda per aggiungere uno tieni premuto e spostati quindi ottengo premuto sul tasto più mi sposto vedete che mi sta seguendo il punto lo posiziono dove desidero ovviamente poi ne posso cambiare la posizione e vedete che lui comincia a risettare esattamente tutto ora ovviamente questa missione può essere variata come posso fare posso anzitutto vedete che qui mi dà un punto di partenza che questo qui verde partirà da qui la mappatura vedete mi dice che sono distante l'operatore distante 8,9 km perché chiaro io sono fermo in questo punto sto impostando la missione in un altro mi dà l'altitudine mi dà la velocità con la quale il drone si porterà verso questa posizione non è la velocità che utilizzerà ovviamente durante la missione perché quella l'abbiamo l'abbiamo già stabilita questo vedete in rosso è il punto di fine vi ricordo che qui il mio drone stazionerà quindi si fermerà in overing come potete vedere la velocità è 3,7 km orari quindi è la velocità con la quale terminerà la missione vi ricordo che è impostato 3,7 km orari ma posso ovviamente andarla andarla a cambiare e ovviamente posso anche utilizzare questi comandi che ci sono al centro per fare che cosa beh caso mai tenendo premuto su questo qui per allargare o stringere la sto utilizzando le quattro frecce laterali per allargare o stringere la zona della missione piuttosto che andare a ruotare quello che quella che è la mia missione cioè posso scegliere di fare una serie di operazioni che ovviamente con il touch restano diciamo molto restano molto semplici restano molto semplici da fare nulla quindi ho una serie di parametri che mi consentono di impostare punto di partenza punto di fine eccetera ora è chiaro che se qualcosa non dovesse tornare io qui ho a disposizione la possibilità qui in alto a sinistra tramite queste tre tramite questi tre queste tre lineette di andare a verificare quello che ho impostato quindi adesso che una parte grafica qui ritorno un attimino a quello che stavo a quello che stavo impostando e vedete che posso caso mai impostare una velocità del drone diversa piuttosto che un intervallo di cattura diverso piuttosto che un angolo eccetera vado anche a se voglio posso continuare a impostare il le sovrapposizioni frontale e laterali piuttosto che la quota di volo e vedete che momento in cui io vado a cambiare qualche parametro all'interno di questa zona in basso a destra mi si aggiorna anche quello che il tempo di volo la lunghezza l'area i segmenti la velocità eccetera quindi posso scegliere davvero tutto quanto quello che che voglio ad esempio voglio portarmi a facciamo 35 metri vedete che man mano che io vado a modificare per esempio la quota di volo mi si modifica in automatico la missione che c'è sotto piuttosto che vedete il numero di immagini i segmenti la velocità e quant'altro voglio caso mai una sovrapposizione laterale minore caso mai del 60 per cento ecco che mi si ritara quella che la missione una sovrapposizione frontale caso mai mi va bene del 75 e così via quindi tutte le operazioni sono fattibili all'interno di questa preparazione quindi la mia missione è pronta non devo fare altro che ovviamente se voglio salvarla così dopo posso recuperarla nel momento in cui sono sul posto e vado a volare quindi il mio piano di volo è stato salvato altre informazioni le potrò indicare nel momento in cui sono direttamente sul posto per il volo relativamente a quella che è la camera ora siamo in campagna e quindi sul luogo dove dobbiamo effettuare il volo mi carico la missione la missione la vado a caricare dai waypoint carico la missione eccola qui l'ho leggermente rivista l'ho rimpicciolito un attimino per velocizzare anche i tempi di volo e quindi la cosa che mi resta da fare entrando nella nella dashboard fly dashboard adesso clicco su fly dashboard qui al centro in basso entro all'interno in quelli che sono i parametri della camera dove c'è l'immagine che riprende il drone c'è intervallo clicco su quelle tre lineette e imposto possa eventualmente andare a modificare quello che è l'intervallo di scatto imposto ogni tre secondi in base alla missione a questo punto do lo start quindi ingaggia la sequenza di volo sono pronti i satelliti ci sono anzi prima di fare questo portiamo in quota il drone così siamo relativamente tranquilli che non possa impattare nulla una volta che sono in quota avvierò la sequenza ecco in basso al centro c'è start engage sequence a questo punto continuo ho completato una checklist gli dico che sono l'operatore fisso e partirò dalla quota attuale mi dice che attualmente sono a 17 metri confermo e lui si porterà in automatico sui waypoint quindi adesso al termine di questo conto alla rovescia ecco si vede che il drone comincia a portarsi alla quota impostata di 35 metri ecco è possibile vedere in basso come il drone stia raggiungendo la zona di volo il primo waypoint quindi si è portato sul primo waypoint adesso non farà nient'altro che orientare la camera in maniera ortogonale al terreno così come abbiamo come stato richiesto una volta fatto questo è partita anche la avvio la sequenza di scatti ed ecco che il drone comincia a volare a scattare le foto secondo la missione che abbiamo preimpostato dopo aver elaborato le fotografie con photoscan ecco una carallata velocissima di tutto quello che abbiamo ottenuto partendo dal primo allineamento delle immagini quindi con la sparse cloud e poi via via tutte le altre elaborazioni ecco ci sono